Prima di iniziare questo video, vi incoraggiamo caldamente a iscrivervi al nostro canale, attivare le notifiche e restare aggiornati su Ignazio Boschetto, il talentuoso musicista nato il 4 ottobre 1994 a Bologna. Ignazio ha raggiunto l'apice del successo con il gruppo musicale, Il Volo, di cui è uno dei membri fondatori insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble. Questo trio si è formato nel 2009 durante la partecipazione al programma Canoro. Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, riuscendo a conquistare il cuore del pubblico grazie al loro straordinario talento musicale. Nonostante Ignazio sia noto per la sua riservatezza sulla vita privata, possiamo dire che può contare sull'amore e il sostegno della sua compagna, la ballerina brasiliana Anna Paola Gedis. La vita di Ignazio è stata contrassegnata da sfide, in particolare la sua nascita con una rara condizione congenita chiamata genesi renale, colpisce solo una persona su 2000 e comporta la mancanza di un rene sin dalla nascita. Tuttavia, il suo rene rimasto è abbastanza forte da consentirgli di vivere una vita appagante e di godere dei frutti del suo lavoro. Nel febbraio 2021, poco prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Ignazio è diventato non solo un'icona musicale amata in tutto il mondo, ma anche un esempio di resilienza e forza, ispirando milioni di persone con la sua straordinaria storia di vita. Vi chiediamo gentilmente di condividere le vostre opinioni lasciando un commento alla fine del video e di continuare a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie di cuore per averci seguito, e a presto con un nuovo video.